Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Che dire, oggi è stata una giornata con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso e come avete potuto osservare nel cielo, un cielo piuttosto giallo. Questo cos'è? Vedete come ho indicato nella grafica della sabbia dal deserto, infatti vedete tutta questa circolazione, questa cupola ciclonica che porta direttamente la sabbia nei nostri cieli. Infatti è esperienza che anche sulle macchine abbiamo la presenza di sabbia dovuta proprio a questa potente circolazione che sta proprio richiamando dell'aria piuttosto calda, infatti abbiamo avuto temperature, pensate oggi a Clusone, fin verso i 21 gradi proprio sul nostro territorio. Se una configurazione così si fosse formata in estate avremmo avuto addirittura punte di 40 gradi sul nostro territorio. Per fortuna questa cupola anticiclonica di matrice africana ci ha interessato nel periodo primaverile. Cosa accadrà nelle prossime ore? Vedete questa bella immagine da satellite che vi mostra proprio questa nuvolosità con tutto questo giallo caratteristico della sabbia che sta invadendo i cieli di mezza Europa. Tutta questa circolazione, questo canale depressionario che sta portando delle nuvole medio basse, interessando soprattutto la Sardegna e la si sta spingendo via via verso nord portando della nuvolosità frastagliata e vedete la sabbia fin verso la Francia e la Germania. Quindi diciamo che anche nelle prossime ore avremo questo classico tempo con cieli poco parzialmente nuvolosi e con un clima decisamente mite di tipo quasi africano. Andiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domani che vede un mattino e un con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, al più qualche nuvole in più soprattutto nella zona della Valle Camonica e dell'Alta Valle di Scalve e un clima decisamente gradevole con una quota dello zero termico intorno ai 2100-2200 metri di altitudine al mattino e nel corso della giornata uno zero termico che potrebbe sfiorare i 2600-2800 metri di altitudine. Ancora domani farà abbastanza caldo sul nostro territorio con temperature più che primaverile. pensate che di nuovo ancora a Clusone si potrebbero toccare i 20-21 gradi. Anche al lago sarà una bella giornata, al lago di Iseo e al lago di Endine con brezze nel corso della giornata e temperature comprese fra i 22 e i 23 gradi. Poi ho indicato nella serata che arriva qualche nuvola sul nostro territorio via via sempre più compatta. Infatti queste nuvole richiamate dalla circolazione depressionaria sul Nord Africa si avvicineranno pian piano a partire da ovest e quindi diciamo dalla zona della Val Brembana via via in estensione in serata anche alla zona dell'alta Valle Seriana e Valle di Scalve e non escludo che nella tarda nottata possa arrivare anche qualche locale piovasco sul nostro territorio. Ma andiamo all'evoluzione del tempo per la giornata e per la settimana. In Valle Seriana lunedì abbiamo indicato una instabilità soprattutto nel corso della giornata avremo la possibilità di piovaschi pomeridiani. Le temperature tenderanno un pochino a scendere con massima acclusione che si posizioneranno intorno ai 13-14 gradi, uno zero termico in calo a 2.500 metri altitudine. Martedì il tempo gradualmente migliora e tornano di nuovo questi venti piuttosto caldi provenienti dal Nord Africa. Infatti una nuova circolazione depressionale sull'Africa favorirà proprio l'ingresso di questo canale umido e piuttosto caldo in direzione anche del Nord Italia. Quindi vedete come le temperature acclusione torneranno intorno ai 18-19 gradi anche nel corso della settimana. Con uno zero termico pensate che nella giornata di mercoledì potrebbe posizionarsi oltre i 3.100 metri di altitudine, pressione atmosferica intorno ai 1.013-1.015 millibar e delle giornate almeno fino a mercoledì con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata di giovedì si dovrebbe attivare un po' di variabilità e non escludo soprattutto sui nostri rilievi aerobici la possibilità di qualche locale acquazzone. Ecco venerdì cambio deciso della circolazione atmosferica. Tornano dei venti più freschi provenienti dal Nord Europa e quindi quest'area piuttosto calda viene via via spostata verso sud. Ritornano ad abbassarsi le temperature. Vedete acclusione con massime che non supereranno i 10 gradi quindi con ben 8 gradi meno rispetto al giorno precedente e arrivano anche di nuovo le precipitazioni sul nostro territorio e potrebbe tornare anche qualche spruzzata di neve nel prossimo weekend proprio intorno alle quote di 1.800-2.000 metri di altitudine. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.